L'analisi che abbiamo fatto noi è partita da tutta una serie di difficoltà che affliggono oggi la filiera perché diminuiscono le superfici ci sono dei problemi di costi ci sono dei problemi di manodopera ci sono delle problematiche diciamo legate al cambiamento climatico ovviamente noi ci siamo focalizzati su quelle che sono le soluzioni che possiamo concretamente implementare per concludere che la filiera debba trovare gli strumenti per capitalizzare tutto questo tutti questi dati che abbiamo tutte queste evidenze che abbiamo tracciato e analizzato per rilanciare i consumi di una referenza che a mio modo di vedere rimane una grande opportunità perché solamente espressa parzialmente fino ad oggi Dopo aver parlato delle angurie vi lascio il link in descrizione per rivedere la puntata del Fresh Talk oggi parliamo di meloni e storicamente Basf Nunems è un'azienda focalizzata su questa cultura possiamo Matteo ripercorrere brevemente le tappe che vi hanno portato a fare tutte queste innovazioni in questa cultura si grazie Luca per Nunems la referenza melone è veramente fondamentale e molto importante nel tempo infatti il dipartimento di breeding ha portato non solo innovazione ma nel portarla ha proprio cambiato completamente il mercato tante volte in primis stiamo parlando di 40 anni fa 1984 il primo melone è Longshell Life Fiola poi il tratto Longshell Life è stato declinato anche su altre tipologie che poi nel tempo sono state sviluppate e sono approdate sui vari mercati guardando diciamo all'Italia il primo livello di innovazione dopo il Fiola è arrivato nel 96 con l'avvento di Honeymoon su una tipologia classica per il Nord Italia una tipologia diciamo già caratterizzata da un alto profilo organolettico con Honeymoon abbiamo esaltato proprio questo aspetto della qualità organolettica altro momento nel quale abbiamo completamente cambiato il mercato l'avvento del polpa rossa il polpa rossa è un'invenzione del breeder di Nunems nel 1998 arriva la prima varietà Longshell Life polpa rossa magenta da lì poi tutta una serie di innovazioni legate per esempio nel Galia proprio con l'idea di dare un prodotto garantito dal punto di vista qualitativo e quindi la linea Galchia quando vira a giallo è maturo non ci sono dubbi è buono ha il 100% di maturazione per poi arrivare diciamo a trasformare innovare ulteriormente diciamo la tipologia liscio con l'avvento della linea T.A.R.E. dove fondamentalmente l'idea era quella di prendere un prodotto tradizionale e renderlo più usufruibile dalla grande distribuzione organizzata infine sul retato la linea Bernini dove il focus principale era quello della qualità del frutto ecco abbiamo visto molte innovazioni c'è qualche progetto che ha avuto maggior successo in termini di vendite di cui ci puoi parlare? beh diciamo che sempre ripercorrendo un po' la storia il primo progetto in assoluto a livello diciamo Italia è stato quello del Mundial quindi melone polpa rossa alta qualità da presentare sul mercato diciamo sul segmento precoce al consumo poi come dicevo prima l'honey moon abbiamo portato a dei livelli di eccellenza la tipologia del liscio quello che è stata l'innovazione recente è stato appunto il T.A.R.E. prendere il liscio e dargli maggiore shelf life mantenendo un livello qualitativo elevatissimo parlando di retato italiano nella tipologia quindi classica del mercato il melone per antonomasia diciamo se chiede un bambino di disegnare un melone te lo fa con la rete e le fette verdi diciamo e non a caso questa tipologia rappresenta il 60% in termini di volume di commercializzazione del melone in Italia qui la nostra mission è quella da sempre di portare qualità in termini organolettici e qui appunto come dicevamo prima abbiamo sviluppato tutto un assortimento partendo dalla nostra varietà diciamo di eccellenza che è il Bernini per creare delle piccole sorelline e riempire un po' tutto il segmento e infine come dicevo prima il Piel de Sapo quello è un progetto diciamo che si sta sviluppando che stiamo sviluppando negli ultimi anni e stiamo avendo un importante successo dal punto di vista soprattutto del ritorno dell'apprezzamento del consumatore proprio lato organolettico è una linea che è caratterizzata da profumi e aromi molto particolari e distintivi ecco di tutti questi progetti voi avete parlato anche durante un evento che c'è stato l'anno scorso ed è stato il Summit Melone di cui abbiamo parlato tra l'altro sul sito di Fresh Point Magazine e siete riusciti a mettere insieme diciamo tutta la filiera quindi siamo partiti dal campo per arrivare poi allo scaffale al punto di vendita quindi avevate anche sul palco alcuni retailer quindi in quell'occasione si è lanciato l'allarme per la riduzione delle superfici coltivate però diciamo il melone è riuscito a tenere abbastanza nei consumi in un anno un po' particolare per il mondo dell'ortofrutta quali sono le evidenze che sono emerse oltre a queste e che cosa vedi nel futuro? sì diciamo che come dicevi tu quello che è particolarmente emerso il dato dal quale siamo partiti è stato l'allarme il Summit Melone è stato per noi un evento fondamentale l'idea è nata proprio dal confronto continuo che abbiamo con i nostri partner diciamo che non sono solo i produttori e anche la distribuzione in maniera indiretta tramite delle diverse survey che facciamo è anche il consumatore che ci dà tutta una serie di elementi per capire cosa sta succedendo e era da diverso tempo che avevamo nella mente l'idea di creare questo evento dove come dicevi tu tutta la filiera si incontra e si chiude in una stanza per riflettere su una serie di temi l'analisi che abbiamo fatto noi è partita da tutta una serie di difficoltà che affliggono oggi la filiera perché diminuiscono le superfici ci sono dei problemi di costi ci sono dei problemi di manodopera ci sono delle problematiche diciamo legate al cambiamento climatico ovviamente noi ci siamo focalizzati su quelle che sono le soluzioni che possiamo concretamente implementare al cambiamento climatico oggettivamente nel nostro piccolo possiamo tutti fare qualcosa però ormai è un trend che difficilmente riusciremo a invertire nel breve termine abbiamo cercato di sensibilizzare tramite diciamo la condivisione di tutta una serie di dati perché poi è anche quella la problematica che abbiamo constatato nel nostro settore mancano i dati le persone non hanno contezza diciamo della dimensione delle cose e in un sistema diciamo impreditoriale la prima cosa che è fondamentale per prendere le decisioni strategiche è il fatto di conoscere ed avere dei dati diciamo sul quale poggiare le proprie decisioni il risultato del summit melone è stato un qualcosa di veramente straordinario e sono orgoglioso di dirlo sto vedendo che in molti casi abbiamo di fronte delle persone i principali attori della filiera che stanno pian pianino cambiando un po' l'approccio dopo tutta una serie di riflessioni che abbiamo fatto insieme diciamo che abbiamo piantato un piccolo seme che sono sicuro che in futuro porterà degli ottimi frutti ai nostri partner e viste queste evidenze cosa servirebbe dunque sul punto di vendita per valorizzare il melone? quali sono le leve da muovere? se guardiamo dal lato di quello che può offrire Nunems il contributo sicuramente è a livello come abbiamo detto di innovazione varietale con un focus in principale cioè prodotti consistenti da un punto di vista organolettico quindi qualità standard e lineare e alta e riconoscibili quindi lavorare su quei tratti caratterizzanti come colore, forme, dimensioni tutti i sondaggi che abbiamo effettuato a livello di consumatori ci portano ad evidenziare tre driver principali che il consumatore cerca nel prodotto in primis la qualità ed è quello più importante diciamo il secondo punto per importanza è l'origine del prodotto inteso come tracciabilità e questo implicitamente denota un bisogno di sicurezza del consumatore che noi dobbiamo corrispondere il terzo livello è la sostenibilità che possiamo declinare in due modi il primo la sostenibilità ambientale e quindi il livello di input che la produzione del melone crea a livello ambientale e qui Nunems ha delle soluzioni che possono essere sicuramente varietali in termini di resistenza quindi varietà che hanno bisogno di minori input e in seconda battuta quello di efficientare questi input e quindi soluzioni digitali la sostenibilità poi può essere intesa anche in termini economici cioè la giusta remunerazione di tutti gli anelli della filiera e proprio per questo diciamo puntiamo molto a creare dei progetti che sviluppiamo con l'intera filiera in maniera appunto che il valore aggiunto che generiamo con i prodotti distintivi con le nostre varietà venga ripartito appunto nell'intera filiera questi tre diciamo driver che emergono debbono essere comunicati nella giusta maniera al consumatore se ti ricordi al summit melone emergeva anche questo cioè che c'è un gap tra quella che è l'aspettativa del consumatore quindi quello che lui ci dice questi tre punti e quello che poi effettivamente vede appunto vendita che non è esattamente al 100% un qualcosa che lo soddisfa credo per concludere che la filiera debba trovare gli strumenti per capitalizzare tutto questo tutti questi dati che abbiamo, tutte queste evidenze che abbiamo tracciato e analizzato per rilanciare i consumi di una referenza che a mio modo di vedere rimane una grande opportunità perché solamente espressa parzialmente fino ad oggi ecco certo e il summit melone è stato un po' l'esempio di come mettere a un tavolo tutta la filiera può portare a dei risultati interessanti e a uno sguardo nel futuro che possa un po' migliorare e cambiare quello che poi si porta anche sul mercato quindi grazie Matteo intanto per questo percorso che ci hai fatto fare nei meloni vi ricordo che noi abbiamo anche la prima parte del Fresh Talk la prima puntata del Fresh Talk e vi metto il link in descrizione per andare a vedere la puntata sulle angurie ricordo a tutti gli spettatori che tutte le puntate di Fresh Talk sono presenti sul nostro canale YouTube e sul nostro sito e quindi non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a una prossima puntata grazie Luca e un saluto a tutti gli ascoltatori